Risorse ingenti per sistemare le vie più ammalorate di Mondolfo, l'amministrazione comunale ha stanziato 200.000 euro per rispondere alle situazioni di maggiore criticità individuate nei mesi scorsi. Gli ultimi interventi hanno riguardato via Molino Vecchio, via Cardarelli e il parcheggio tra Viale delle Regioni e via Molise. A fare il punto invece su quelli in corso è il sindaco Nicola Barbieri. Dopo gli interventi realizzati ad autunno dello scorso anno, ora continuiamo con altre vie critiche della nostra città. In questi giorni stiamo intervenendo a Mondolfo, vicino al centro storico, in via degli Olivi, via Buonacesta e via Monte Ciappellano. Quest'ultima via che prevede non solo lavori di rifacimento del manto stradale, ma anche interventi sui drenaggi e sul sottofondo stradale. Ogni anno come amministrazione comunale mettiamo a bilancio delle risorse proprio sulla sicurezza stradale per il rifacimento della segnaletica, per il rifacimento del manto stradale con l'obiettivo di migliorare la sicurezza per i nostri cittadini e l'immagine e il decoro della città. Siamo consapevoli, ha aggiunto il primo cittadino, che ci sono anche altre vie che necessitano di lavori, ma in queste non è ancora possibile intervenire perché sono in corso le opere per la posa della fibra ottica. Quando si concluderanno sarà Open Fiber che procederà a ripristino definitivo. I lavori proseguiranno anche nei prossimi giorni e nelle prossime settimane con altre vie del territorio comunale.